Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore con un matrimonio da favola. L'emozione dei due sposi era palpabile nei video condivisi sui social dal grande amico Edoardo Tavassi. La cerimonia si è svolta a Forte dei Marmi, con il suggestivo scenario del mare a fare da cornice al romantico scambio delle promesse. A celebrare il rito è stato il rinomato wedding planner Enzo Miccio, mentre circa un centinaio di invitati, tra cui vari personaggi famosi della stessa edizione del Grande Fratello Vip, in cui si sono conosciuti, hanno reso speciale il giorno degli sposi. Clizia ha dichiarato il suo amore eterno a Paolo con le parole «ti amo», mentre la scelta della location non è stata casuale. Il luogo è infatti carico di significato per Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, che proprio lì si sono innamorati sul set di Sapore di Mare 2 nel lontano 1983. Il party post cerimonia si è tenuto al MITE, un esclusivo beach club di proprietà dell'imprenditore Stefano Nesti, e ha visto la presenza di amici e parenti, tra cui Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Il piccolo Gabriele, frutto dell'amore tra Clizia e Paolo, era presente insieme a Nina, la figlia di Clizia avuta da una precedente relazione. Un matrimonio da sogno, un amore che si rinnova ogni giorno. Clizia e Vagelos, ma non lo facciamo in effettuare un nuovo capitolo del loro storio, con la speranza di vivere felice.